In questo caso abbiamo preso il protesto dell'anniversario del bicentenario di Canova che appunto dava uno slancio a questa iniziativa, ma in realtà è una serie di linee editoriale di illustrazioni, di libri e di illustrazioni che affrontano vari temi, vari argomenti, vari artisti e quindi è proprio una forma espressiva e uno stile di Maria Pia Morelli. Tengo a dire che quando qualche anno fa è partito questo viaggio dal Museo Cirico di Bastano del Caralpa intitolato Lei ci sogna viaggia, non avrei mai pensato che sarebbe diventato un viaggio intanto coinvolgente, è un viaggio che però è capace di avvicinare i destinatari del mio lavoro e quindi delle mie opere sia artistico che letterario che sono i bambini, i bambini, i genitori, le loro famiglie alle istituzioni. Una di queste mie spalle è la Danza Felice con Cervali di Canova, il cui modello originale per utilizzare la Canova è il Museo Tavolini, quindi è un'operazione di esperti cross mediale, un'operazione artistica che usa il linguaggio dell'illustrazione, il linguaggio nobile dell'illustrazione, e anche educativo ma arriva anche al digitale. Quello che vedete alle nostre spalle è un'opera d'arte derivata, danzatrice con Cervali di Rosso, è un NFT digitale, è una derivazione di un'opera d'arte originale. Quello che vedremo invece nell'altro museo è un secondo NFT che non è digitale ma è FIGITAL. Che cos'è un NFT FIGITAL? Il certificato di autenticità digitale di un'opera fisica. In realtà in questo caso abbiamo l'amministrazione dell'importanza dell'arte digitale e dell'NFT perché c'è sia l'obiettivo della certificazione digitale dell'originalità di un'opera, sia la creazione di un'opera unica digitale, che ovviamente può essere riconosciuta da mentale, e nella loro interpretazione FIGITAL legata a un'opera, la certificazione unica legata a un'opera originale e reale. Questo è un giro che può dare vita ovviamente a dei multipli, questo sempre certificato. Questo perché è importante? Perché è legato a Canova? Perché Canova, come sappiamo, è stato il primo artista pop che ha intuito l'importanza della serialità. Aveva apprezzato questo sistema, un po' come Joe Fonters, questo mi permetteva di far fare i duplicati dal gesso anche ai suoi operari. E anche proprio in questi giorni, con la banca Infis, lo racconteremo, abbiamo condotto un'impresa che riguarda un gruppo di opere sconosciute di Canova. Sono presentate il 7 dicembre alla mostra su Unione Paese 5 di Canova a Lucca, come si chiedono le celebrazioni. Grazie a tutti!